Si avvicinava con fare sospetto alle auto in sosta, passandole in rassegna una dopo l'altra, probabilmente per verificare se qualche proprietario distratto le avesse lasciate aperte e approfittarne per cercare oggetti di valore. Il comportamento di un giovane immigrato ieri sera non è passato inosservato e almeno due testimoni hanno contattato il 112 e dato l'allarme. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti per verificare la situazione. Il giovane era stato segnalato tra Livi e Sinigaglia e Vittorio Veneto. I militari dell'arma hanno accertato che effettivamente il ragazzo stava provando ad aprire le auto e lo hanno fermato per un controllo. Il giovane 19 anni originario del Gambia e irregolare in Italia, dove sembra sia arrivato da poco, non aveva con sé nulla che potesse essere considerato oggetto di furto. È stato denunciato per tentato furto e per la violazione delle norme sull'immigrazione.